Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una serie di monocoli per osservare sia in lontananza che da vicino. Gli ingrandimenti proposti vanno dal 4x, 6x, 8x e 10x. Il più piccolo, che vedete in quadrato, ingrandisce 4x. Poi si passa al 6x. Qui stiamo vedendo il 4x e sulla destra abbiamo il 6x. Questo è il 6x. Sulla destra abbiamo l'8x e terminiamo con il 10x. Più lo strumento è grande e più ingrandisce. Questi strumenti vengono utilizzati per osservare in lontananza. Sono impiegati nel birrwatching, per escursionismo e tutte le volte che devo osservare qualcosa da lontano. Un aspetto molto interessante che rendono questi strumenti molto particolari e molto utili è che vanno a fuoco anche da vicino. Quindi non sono strumenti solo per osservare in lontananza, ma possono mettere fuoco a partire da 30 cm. Se abbiamo una macchina rotativa che non possiamo avvicinarci, alla quale non possiamo avvicinarci, possiamo usare questo strumento per osservare la lavorazione. Se abbiamo un acquario e non posso avvicinarmi, o degli animali da osservare a una certa distanza, con questo strumento lo possiamo fare. Gli impieghi sono molteplici, quindi sono strumenti che vanno a fuoco sia da vicino che da lontano. Adesso di seguito vi proponiamo alcuni utilizzi. Questo è lo strumento maggiore, è un 10x. Quindi abbiamo visto strumento piccolo, 4x, 6x, 8x e poi abbiamo uno strumento grande, 10x. con questo strumento. Bene. Questo è lo strumento per un'altra, 10x. Vediamo il messmodo tutto. Vediamo è un'altra, 10x. Vediamo il passaggio della cănza di Fond umano, 700x. Vediamo. Vediamo il passaggio della stessa. Vediamo però il passaggio della stessa. Vediamo le strumento che abbiamo fatto da un'altra. Adesso qui vediamo un utilizzo da vicino. Adesso vediamo un utilizzo da vicino. Adesso stiamo usando un 4x come ingrandimento. Grazie. 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 Adesso utilizziamo questi monocoli per osservare da lontano, diciamo nel loro utilizzo classico. Prima di salutarvi riassumiamo un attimo quello che abbiamo visto in questo video, abbiamo visto una serie di monocoli 4x, 6x, 8x e 10x che possono essere utilizzati sia per osservare in lontananza che da vicino. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un nostro prossimo video, grazie. 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 Grazie.